camper o van e se invece fosse un urban vehicle ma cos'è un urban vehicle vediamolo insieme un urban vehicle è un veicolo che ha la possibilità di essere utilizzato come un automobile con le stesse lunghezze larghezze e altezze di un'automobile ma con dei grandi risparmi ma quali sono beh l'assicurazione costa veramente molto meno in realtà anche il bollo costa un quarto rispetto all'automobile m1 come immatricolazione mi raccomando non dimenticatelo e quando lo vado a rivendere vale anche di più i veicoli m1 si svalutano molto meno delle classiche automobili vediamolo dentro ora un mini camper sempre pronto all'uso con l'utilizzo quotidiano tutti i giorni dell'anno a tutte le ore potete davvero divertirvi vediamo frigorifero a pozzetto comodissimo è un frigorifero che va a batteria e quindi sempre pronto per l'utilizzo due fuochi della tedford comodissimi si beh poi anche la sue bombole del gas dedicato e anche il serbatoio dell'acqua dedicato perché anche la doccia esterna lavandino in acciaio inox nella parte posteriore l'aggiunta del letto ed ecco la doccia esterna non finisce qui ce n'è di più belle ancora cambio automatico guardate quanto è comodo per i vostri e il tetto a soffietto con letto che si può alzare per stare all'interno in piedi